Aggiornamenti di oggi sulla Pfizer la stima rimane del 20% in meno? Purtroppo il 20% in meno della settimana che arriverà lunedì non è una stima, è una triste certezza. E dalla mia introduzione con la Pfizer e anche purtroppo dalla quotidiana applicazione nella gestione dell'emergenza io non sono più a mio agio con le stime e non mi servono le rassicurazioni, mi servono i vaccini.